Chi piangeva? Si sentiva piangere tutto nei boschi, perché tutti cercavano sui e non li trovavano. Penso che ci siano state generazioni di turisti tedeschi in Italia che ignoravano le tracce di sangue lasciate nell'estate del 1944 in Toscana. Appena le due famiglie sono state dentro la cucina della famiglia Pierotti, hanno iniziato con le macchie in pistole a ammazzare le due famiglie, hanno messo cinque minuti. Però di Sant'Anna e delle altre località era il silenzio, era diventato un silenzio assordante. Il procuratore di Stato Hoessler non mi spiegò che lui non avrebbe mai formulato nessuna ipotesi di accusa, perché a suo avviso non poteva essere ritenuto omicidio aggravato, mancava l'elemento aggravante della crudeltà. Incensurati mi dà fastidio. Nessuno pretende che questi vengano messi in carcere ancora e sopravvissuti, ma che a quanto meno vengano riconosciuti colpevoli. E in Germania questo non è stato fatto. Sono rimasto male, dico francamente la verità, perché non avevo nessuna cosa di vendetta, avevo bisogno solo di giustizia e nient'altro. Anche gli autori dei crimini, come le vittime, sono traumatizzati. I traumi vengono trasmessi da generazione in generazione e non si può fermare questa catena se non si affrontano i ricordi e non si superano. Perché questo crimine appartiene a tutti. Appartiene al mondo, appartiene all'umanità. Quando viene colpito una vita di un bambino, viene colpita l'umanità intera. Non c'è tedesco, non c'è italiano. Se ritornate presto mi trovate ancora. Se no... Ciao, ciao.